Ex campioni italiani, non mi ricordo più quanti ne hanno vinti, 88-89 i maestri Pierrini, Gabriele e Mengozi, Claudia, da Cesena e da Faenza, si presenteranno un balzer dal titolo San Silvestro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Maestri Pierrini, Gabriele e Mengozi, Claudia, da Faenza e da San Silvestro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.